Cerchiamo gente brava, quelli che magari il mercato normale non li guarda tanto perché sono un po' fuori registro a corrente alternata e quindi stiamo cercando un po' di talenti, un po' di persone vere. Presentato questa mattina a Palazzo Cavalcanti, il progetto cioè Centro Interdisciplinare di Opportunità Espressive, una scuola diretta da Lello Arena per talenti di ogni età negli ambiti della recitazione, della musica, della danza e delle arti circensi. Saranno selezionati cento partecipanti che per tre mesi si formeranno gratuitamente nell'auditorium della Porta del Parco di Bagnoli. La finalità è quella di formare nuovi talenti e di dargli l'opportunità di avere poi uno spettacolo prodotto che vada in scena quest'estate in una piazza famosa per le sue possibilità espressive che è Piazza del Plebiscito, per cui si formano degli allievi, li si mette in condizioni, si fanno degli spettacoli e poi gli si offre una platea importante, un percorso che deve essere necessariamente così perché se no le cose sono teoriche e non pratiche. Il concetto di artista è lo stesso da 2500 anni, quando il teatro greco si andava lì in piazza e c'era qualcuno che aveva in qualche modo la pretesa, la presunzione di essere andato a cercare e a condividere un'idea che tutti avevano pronta da dire però nessuno riusciva a prenderla. Speriamo che oggi che ci siano tutti questi megabyte di possibilità, di espressione, poi ci sia anche la cosa da dire su come riempire queste tonnellate di megabyte che vanno in giro magari con il pensiero. L'iniziativa, concepita in occasione del settantesimo compleanno di Massimo Troisi, è sostenuta e finanziata dal Comune e dalla città metropolitana di Napoli. Fra i docenti, oltre Lello Arena ed Enzo De Caro, sono annunciati fra gli altri Arturo Brachetti, Nicola Piovani, Vincenzo Salemme, Giovanni Bloch. Una comicità surreale però molto napoletana che ha profondamente rinnovato anche il linguaggio. È un modo per ricordare Massimo Troisi non solo con la memoria ma anche col futuro, che noi dobbiamo pensare anche alla sua eredità e ai giovani che possono seguire il suo insegnamento. È possibile inviare la propria candidatura fino al prossimo 19 febbraio? Tutte le informazioni